Sette corpi che con la danza hanno il desiderio di gridare attraverso il movimento un moto raffinato ricavato dall'alternanza di tecniche e stile che pur rompendo gli schemi tradizionali non perde di sinuosità e armonia Sotto la direzione artistica di Daniela Rapisarda la compagnia OninDanceCompany.it ha portato al teatro delle celebrazioni Corruption all'interno del Festival di Danza Contemporanea Binario 234 un festival inedito che ha avuto opera protagoniste due tra le compagnie più rilevanti e innovative della danza contemporanea internazionale Corruption all'interno del Festival di Danza Contemporanea Corruption all'interno del Festival di Danza Contemporanea